Ciao a tutti e benvenuti nel canale Porcospino Curioso. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale e mettere mi piace ai video per supportarci. Benvenuti a questo video straordinario dove ci immergeremo in un'esperienza visiva ed emozionale senza precedenti, testimoniando uno dei temporali più violenti e impetuosi mai visti nella meravigliosa regione della Lombardia. Nel corso di queste immagini mozzafiato, sarete trasportati in un viaggio attraverso le sorprendenti forze della natura, mentre la grandinata e le alluvioni scuotono questa terra ricca di storia e bellezza. Preparatevi a essere colpiti dalla potenza della natura e a scoprire come la resilienza e la solidarietà umana si uniscono per affrontare una delle tempeste più spietate nella storia della regione Lombarda. Unisciti a noi mentre esploriamo questo evento straordinario e scopriamo come la Lombardia si rialza con forza e determinazione dopo il passaggio di questa violentissima tempesta. qui fa due gocce, fa due gocce qui! qui fa due gocce, fa due gocce, fa due gocce, fa due gocce. qui fa due gocce, fa due gocce, fa due gocce, fa due gocce. si scopriamo c », fa due gocce". Scova e Questa è la situazione di corso del popolo ragazzi abbiamo un po' di problemi Siamo letteralmente allagati il centro di Seregno è così e adesso vedo che c'è lì quello del Seregno 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 Seregno